Ciao ragazzi, sono io, Giorno, 022 da Bess. Oggi volete che iniziamo un nuovo video? Fantastico! Ok. Iniziamo subito. Ciao ragazzi, e finalmente eccoci in un altro episodio. Oggi, come avete visto dal titolo, stiamo in una nuova reazione. Ma questa reazione non è tanto, è particolare, non è come tutte le altre. Sono esperimenti di scienze, ma veramente grandiosi. Bene, andiamo a vedere le informazioni. Questo canale si chiama Bruce Poop, canale in descrizione. Questo video, che parliamo di 10 trucchi da usare per le cose in liquido, come acqua e qualcosa, vabbè. Di scienze meravigliosi. E ha avuto 33.982.784 visualizzazioni. E strano però, questi pochi mi piace. Stranissimo. E vabbè, mi dislike, chi se ne frega. E l'ha pubblicato il 26 agosto 2015. Sì, 2015. E non ho niente da dire. Possiamo incominciare subito. E iniziamo con la proiezione. Già da questa immagine, da questo, sì, fermo, sembra bello. Allora, non chiedetemi niente, che io non so tanto l'inglese, quindi sarebbe lo slow motion di una palla. Di una pallina. Ma che liquido, eh. Non ho capito il liquido. Guardate quanto... Ok. Ok. Il primo l'abbiamo risolto. E ora, cosa farà? Vediamo un po'. Piega. Ok. Il foglio. Disegna di nero. Ehm, cosa vuoi fare? Eh no. No, sì, è impossibile. Com'è possibile? Con una bottiglia d'acqua. Non so se è una bottiglia d'acqua. Puoi... No, puoi fare un fuoco col... No, sì, è impossibile. Impossibile. Non lo so. Questa è una cosa folle. È follia pura. Ma chi di voi mette delle matite in una butta con dentro l'acqua? Facendole traspassare. Poi il bello è che ne manco esce per niente. Questo non ho capito che è. Siamo al quarto esperimento. Dark Corners Group. Dish Wishing... Ma non... La pronuncia è veramente terribile. E' meglio che non leggo. L'olio vegetale. Almeno so. L'alcol colorato. Colorato. Buu... Andiamo bene. Questa è una cosa bellissima. mamma mia. E che è sta cosa? Che è? Con dentro l'acqua? Con acqua... Che cavolo? Non ho mette niente niente. Non ho mette niente niente. Una matita? Che schifo. Che schifo. Eh? Che schifo. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Sono bellissimi. Con il colorante dentro. Eh? Ma chi? No. Non. Non lo so. Ma questi esperimenti? quindi non so come boh no si è una cosa impossibile qua siamo all'ottavo esperimento così rovina la pelle cosa cosa davvero ma che ma che è no non ci ho mai trovato è vero è una cosa incredibile siamo al penultimo esperimento cosa vuole fare cosa vorrei no si si schiariscono le immagini tipo tu scrivi all'incontrario e vabbè quello è più fattibile l'ultimo esperimento ma che so bollicine ma che è sta roba ma che gli servono queste cose per fare ma il bicchiere boh che ce ne fa ma che è non capisco che so ste robe appunto io capisco che queste cose sono coloranti solo questo poi non so niente metto un colorante qui un colorante da qua e ora giro il bicchiere e no guardate che roba però era bello se formava un'immagine inventava un'immagine e la formava vabbè comunque una cosa bellissima bellissima mamma mia e niente ragazzi questo video è finito questo video è finito pensavo che durava di più sei minuti e manco l'ho visti quanto duravano mazza comunque sei minuti veloci e vabbè ragazzi noi abbiamo finito l'episodio ci rivedremo forse il prossimo martedì penso di sì e passo la parola a Topolino chi non ha visto l'episodio precedente di FIFA Foot Draft la prima volta che gioca a FIFA che faccio un video su FIFA vedetelo che è il video precedente e passo la parola a Topolino e ciao gente a tutti a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti.